Passo avanti nel percorso che porta alla riqualificazione di Piazza Duomo a Firenze. Un nuovo impianto luci più potente e tecnologicamente avanzato illumina Duomo, Battistero e Campanile di Giotto. Il progetto, nato in seguito alla pedonalizzazione della piazza, rende il complesso monumentale pienamente visibile anche nelle ore notturne e aumenta sensibilmente la sicurezza della zona. Da sottolineare l'oculatezza con cui si è svolta l'operazione, riutilizzando e ottimizzando la distribuzione elettrica esistente e evitando i disagi e i costi che avrebbe comportato un rinnovo totale dell'impianto. Un risultato importante per Firenze raggiunto grazie allo spirito di cooperazione che ha animato le categorie economiche assieme all'amministrazione pubblica cittadine. Mi auguro di poter dire che questo possa essere il primo di tanti altri eventi che le categorie economiche attraverso la Camera di Commercio, che ho l'onore di presiedere, possono in autonomia scegliere per donare alla città. Si accendono le nuove luci di Piazza del Duomo, era un impegno che ci eravamo presi il giorno dopo la penalizzazione del 25 ottobre di due anni fa e che grazie al supporto della Camera di Commercio è finalmente una realtà. Quindi è un giorno di festa perché nuove luci in Piazza del Duomo significa fare un pezzettino in più nell'operazione di recupero di questa piazza. Appena ci siamo resi conto della necessità di dare un'illuminazione nuova, il Comune si è messo a lavoro con gli altri enti, la Camera di Commercio in primis, per dare un altro mattone sulla riqualificazione di quello che potrei definire davvero il cuore religioso, spirituale della città e allo stesso tempo anche il cuore del patrimonio culturale della nostra città. Tutto questo poi è anche una risposta alle sollecitazioni del Sindaco che spesso invita le imprese, il mondo economico a fare qualcosa per questa città e questa è la prima volta che in maniera veramente consistente e visibile a tutti il mondo economico tutto insieme attraverso la Camera di Commercio ha finanziato questa bellissima e meravigliosa opera. Riteniamo che questo importante contributo con tutte le categorie in questa direzione possa rappresentare come posso dire una reazione positiva per riappropriarci del nostro centro, dei valori, della cultura che in qualche modo sempre di più deve diventare patrimonio dei fiorentini. La pedonalizzazione, l'illuminazione, i nuovi di oro sono tutti tasselli di un grande progetto che le categorie economiche insieme alla città stanno facendo proprio su Firenze. Speriamo che venga apprezzato dai turisti, dalle persone della città nel suo complesso perché è una grande scelta in cui il futuro ci regalerà, sono sicuro, un giudizio positivo. Credo che sia un valore aggiunto per tutti. Le categorie economiche attraverso la Camera di Commercio si sono impegnate su questo progetto proprio per poter lasciare un segno per la città di Firenze tutti insieme. È un segnale, insieme si vince.